Buon salve signori, ovviamente sempre lo scarso che parlo con voi perché sono l'unico pirra che fa vlog Non mi sono preparato una vera e propria scaletta sinceramente perché non voglio di farlo e perché impiegherei più tempo a scrivere la scaletta che a fare l'intero video Quindi prima cosa, grazie In una cosa come un mese siamo arrivati dai 150 ai quasi 200 iscritti e questo è grazie a voi quindi grazie a voi che vi abbraccio E detto questo ho venuto a spiegarvi ciò che faremo sul canale, come avete potuto vedere non ci soffermiamo più molto sui gameplay sinceramente perché non siamo gli unici a farli Dopo un po' stufano e quindi siamo passati a un lato un po' più, come dire, passiamo a passare le recensioni, magari i gameplay li facciamo ancora più raramente E questo perché ci siamo accorti noi stessi che ci annoiavamo, non c'era mai niente di nuovo, era una cosa vista e rivista Inoltre per chi non avesse letto su Facebook il New York di Marromeda 2 non verrà pubblicato semplicemente perché è successo un casino tra l'autore, tra gli autori, noi e anche un utente di Pokémon Hacking Questo utente ha insultato l'amico morto dei creatori al quale era dedicato il gioco appunto E siamo stati tirati in mezzo anche noi perché abbiamo fatto un gameplay in cui abbiamo detto che effettivamente il gioco non ci piaceva E' bello che ha elencato un video in cui la prima cosa che abbiamo detto era un complimento Per informazione il video è il secondo di Marromeda, quello che parte con Rattata modificato E niente inoltre Flavio ha aperto un secondo canale in cui farà Walkthrough di Zelda E io o me, che vi posso dire, non sono andato molto avanti con Penumbra Sia perché c'era la scuola, impegni personali, quindi scusatemi, la beta dovrebbe comunque arrivare per metà giugno, fine giugno, insomma anche midi luglio Spero sia di vostro gradimento e per chi non aveva ancora questi aggiornamenti sono su Pokémon Hacking, vi lascio il link qua sotto Per quanto riguarda Scarce Edition invece sono andato parecchio avanti e penso che probabilmente uscirà prima la beta 3 di Scarce Edition che quella di Penumbra Semplicemente perché lavorare gli script di Scarce Edition è meno difficile Perché i dialoghi da scrivere sono meno seri quindi io posso buttarci cavolate tipo Ah, c'è uno gnavo lì in città, cosa gli faccio dire? Qualcosa di serio? No, facciamo dire Maiaiaiaiaiaiaiai, tanto è Scarce Edition cosa vuoi che sia Non è che dia priorità Scarce, è che il nostro sprite è impegnato con gli esami Abbiamo un po' di difficoltà nel mettere alcuni lavori perché deve ancora finirli Inoltre vorremmo portare un prodotto di qualità preferibilmente Quindi aspettate ancora un po' perché we are working for you Inoltre abbiamo aperto un sito dove raccogliamo tutti i video che facciamo O mettiamo dei sondaggi per dire chiacchiere censire o quale prossima serie facci un salto giusto così Quindi grazie ancora per i quasi 200 iscritti e grazie per averci seguito, grazie per averci supportato E crepate tutti Grazie 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 Grazie